Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online A cura di Giulio Gaudiano Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Oggi rispondiamo alla domanda di uno di voi ascoltatori, di Valerio, che si chiede come far a trovare fondi per finanziare attività del mondo della medicina e della salute e attività scientifici, attività di ricerca scientifica naturalmente attraverso il mondo digitale Prima di sentire la domanda di Valerio e anche trovare il modo insieme a lui di delineare una strategia voglio ricordarvi che strategiadigitale.info è il luogo dove andare per fare le vostre domande infatti lì trovate il pulsantone diretto per inviare la domanda via Telegram o anche per vedere come si scrive una recensione sul nostro podcast se vi piace o diventare finanziatore o ancora iscriversi insomma è tutto lì andateci in modo da avere sotto mano tutti i link utili ma soprattutto mandateci i vostri amici portate altre persone nella community di Strategia Digitale per riuscire a espandere più possibile il beneficio il beneficio di un approccio ragionato all'utilizzo del digital per il marketing, per il business e per l'editoria online ma ora banda le ciance è arrivato il momento di ascoltare la domanda di Valerio Rosso Ciao Giulio, carissimo Giulio, grazie per tutto quello che fai con il tuo podcast Strategie Digitali io avrei una domanda per te mi chiamo Valerio Rosso e sono uno psichiatra spesso noi in sanità avremo bisogno di trovare fondi per finanziare progetti o diciamo attività che sarebbero di aiuto per i nostri pazienti hai qualche consiglio su come si possa attuare una strategia digitale per ottenere dei fondi o dei finanziamenti utilizzando il web? sarebbe fantastico mi rispondessi, grazie grazie a te Valerio per la domanda allora fondamentalmente è molto semplice dare una risposta a questa tua domanda perché fondamentalmente ci sono due canali principali due modi fondamentali per utilizzare il web in questo senso il primo è quello di creare attraverso il mondo digitale un'autorevolezza per te, per i tuoi colleghi, per il vostro progetto tale da ottenere da pochi finanziatori o da un unico finanziatore molto grande magari può essere anche un finanziatore statale il finanziamento che vi serve per realizzare i vostri progetti come accade questo? beh semplicemente accade perché aumentando la vostra autorevolezza e aumentando la vostra influenza aumenta anche la vostra capacità di fare pressione politica di attirare l'attenzione della stampa insomma diventate in qualche modo capaci di lasciare un'impronta maggiore molto spesso, per farti un esempio pratico il mio collega Marco Montemagno ricorda che lui semplicemente ha costruito per due anni un audience di giorno in giorno attraverso la pubblicazione giornaliera di contenuti il famoso un video al giorno e attraverso la sponsorizzazione di questi contenuti investendo del denaro su Facebook per dare la maggior risonanza possibile a questi contenuti per coinvolgere le più persone possibili parlando di vari temi dando continuamente valore dopo due anni ha cominciato a raccogliere i frutti di questa attività quindi la moderazione la gestione di convegni molto importanti al punto di vista digitale le continue richieste di collaborazioni di ogni tipo il membership club che ha creato dove le persone vogliono accedere e pagano una fin mensile e soprattutto la possibilità così di schioccare le dita e andare da mondatore e dire senti prendi le trascrizioni dei miei video e ci fai un libro ecco l'idea è proprio questa è quella di costruire un'autorevolezza con un progetto che cresce nel tempo e con questa autorevolezza utilizzarla come leva per realizzare i tuoi progetti o per ottenere i finanziamenti che vuoi questa è una strada la seconda strada è quella del crowdfunding cioè quella di non cercare di fare pressione per avere un grande finanziatore ma applicare una pressione se vuoi minore su un maggior numero di finanziatori che misura minore quindi con degli importi minori contribuiscono al tuo progetto qual è il vantaggio di questa seconda strada? beh fondamentalmente il vantaggio è che tu crei una community e utilizzi la richiesta di finanziamento come uno strumento per creare la community che cosa voglio dire? in un caso tu hai utilizzato i contenuti che hai pubblicato per creare la sensazione di gratitudine di autorevolezza di interesse nei tuoi confronti e poi gli hai detto bene se mi stimi se ti interessa quello che faccio allora per esempio compra il mio libro iscriviti alla mia membership vieni all'evento che modero e quindi in qualche modo chiedi una contropartita di questo interesse che ti è stato manifestato con il crowdfunding e questo me ne sono accorto io in prima persona no? perché sai che strategia digitale vive si sostiene attraverso un progetto di crowdfunding su Patreon quindi attraverso il crowdfunding cosa succede? cosa ho sperimentato? che il crowdfunding stesso il finanziamento stesso diventa un mezzo di creazione della community di di coltivazione dell'engagement in qualche modo per dire proprio terra terra il solo fatto di dire alle persone guarda che questo progetto può essere anche tuo tu puoi partecipare in prima persona fa in modo che chi partecipa tenga veramente di più ci metta più il cuore in questo in questo progetto no? dice si dice dov'è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore è un po' così no? ti impegni dove partecipi economicamente finanziariamente ci metti anche di più il cuore ed è così sicuramente perché tutti i finanziatori di strategia digitale io sono magari persone che lo ascoltavano già prima che magari non ci eravamo mai incrociati quando hanno cominciato a finanziarlo abbiamo avuto modo di parlare di di avere un contatto diretto di scambiarci delle 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 battute via telegram e poi la loro presenza è diventata molto più forte cioè si sono sentiti e si sentono molto più coinvolti e per me è bellissimo perché non parlo a un microfono ma parlo a delle persone che stanno dall'altra parte e quindi so che quando pubblico un episodio poi mi arrivano i loro messaggi e mi dicono ah bello ho ascoltato questo mi è piaciuto senti hai detto questo questo però non si è capito bene quindi mi aiutano molto più si è creata si è in qualche modo c'era una comunità di interesse ma è la comunità di interesse si è trasformata in una comunità di partecipazione quindi prima di tutto il finanziamento non è una contropartita del valore ma è un elemento che concorre alla creazione del valore sia per te nei confronti degli altri sia per gli altri nei tuoi confronti il secondo vantaggio è che oggi come oggi in Italia magari nel futuro non sarà così ma oggi come oggi il fatto stesso che un'iniziativa sia fondata sia finanziata tramite il crowdfunding fa notizia quindi ti rende notiziabile aumenta la possibilità la probabilità che mezzi di informazione il giornale la televisione parlino di te e quindi facciano conoscere il tuo progetto a più persone mentre facevo un po' di ricerca per rispondere a questa tua domanda mi sono imbattuto in un finanziamento in una campagna di finanziamento su Kickstarter per il restauro degli ambienti dove ha vissuto San Francesco qui a Roma a Trastevera San Francesco a Ripa quindi è stata avviata questa campagna ampiamente finanziata che ha preso il 120% di quello che si era previstata per restaurare questa questa opera che voglio dire è sì probabilmente sarà dell'ordine francescano ma è un'opera di bene pubblico di interesse pubblico ecco questo fatto che hanno voluto restaurare un'opera d'arte un patrimonio culturale con il finanziamento da parte delle persone comuni come me come te ha fatto subito notizie quindi sono stati loro stessi lo dicono anzi metto il link nel note dell'episodio così te lo puoi andare a vedere sono stati colpiti dalla copertura mediatica mondiale la CNN l'ABC tutte le televisioni Sky hanno parlato di questa iniziativa allora loro in fondo volevano avere un finanziamento per restaurare questi ambienti e di fatto hanno creato hanno reso notiziabile questa loro iniziativa che può essere molto comune l'hanno resa notiziabile proprio grazie alla campagna di crowdfunding il terzo vantaggio fondamentale che secondo me un pochino passa in secondo piano perché magari i primi due sono più spesso citati in associazione al crowdfunding questo terzo è un pochino più così trasparente ma secondo me è utilissimo ti aiuta fare una campagna di finanziamento pubblica e questo lo fa lo sanno bene gli start up perché vanno a presentare i loro progetti a focalizzarsi aiuta te e i tuoi colleghi a focalizzarvi su ciò che è realmente importante ciò che è realmente conta del vostro progetto imparare a comunicare ho incontrato tantissime persone super professionisti di quello che fanno super competenti luminari geni che però non sanno comunicare quello che stanno facendo non sanno comunicare chi sono non sanno comunicare che cosa fanno e non sanno comunicare in che modo quello che stanno facendo fa la differenza per il genere umano per le persone che gli stanno intorno per chi li ascolta questa mancanza di capacità nella comunicazione è molte volte l'altra faccia della medaglia in una defocalizzazione una eccessiva focalizzazione sul particolare no? molte volte tu lo sai meglio di me gli scienziati si focalizzano su una cosa particolare che però non fa l'80% della differenza nel portare questo che stanno studiando a beneficio degli altri magari è un loro è un loro intrippo per sciogliere una cosa che li ha intrigati nella loro ricerca una loro eccessiva focalizzazione per riuscire a contestare lo studio scientifico del collega ma non è realmente utile ai fini di quando si porta il risultato di questa ricerca a beneficio delle persone comuni e allora in questo senso comunicare e chiedere alle persone comuni il finanziamento ti aiuta a spiegare a loro perché cosa vuoi fare perché lo vuoi fare che beneficio porta agli altri e anche di dare più risalto dare maggior fuoco incentrare meglio la propria attenzione sugli aspetti cruciali allora questi tre vantaggi legati al finanziamento dove andare però a chiedere questo finanziamento dove andare ad avviare il crowdfunding potresti domandarti Giulio che faccio faccio come te lo faccio attraverso Patreon la risposta è no perché Patreon è una piattaforma di crowdfunding che funziona per chi produce contenuti e lo fa in maniera ricorrente per questo è basata sulla ricorrenza sul fatto che tu fai un finanziamento non una tanto ma lo fai su base mensile quello che invece ti consiglio è di andare diciamo i più famosi in Italia sono Kickstarter e Indiegogo sono andato per te a controllare e Indiegogo è leggermente più frequentato per progetti con il crowdfunding di tipo medico di tipo che hanno a che fare con la salute in particolare ne ho isolato uno molto interessante che è una una start up che fa diciamo protesi stampate con stampante 3D per protesi idrauliche per bambini che hanno dovuto subire l'amputazione di un arto molto bella questa questa campagna perché parte dall'esperienza concreta di un papà che evidentemente era un ingegnere ora non ho approfondito questo Ben Ryan che nel Regno Unito ha avviato questa campagna e ti fa vedere un po' come può essere comunicata perché poi a seconda di cosa vai a finanziare sono molto note per esempio le campagne per gli oggetti gadget tecnologici a seconda di quello che vai a finanziare e te lo comunichi anche in maniera diversa allora questo progetto è molto bello perché è comunicato in maniera personale cioè l'ingegnere non si racconta dicendo io sono un ingegnere super competente ma ti racconta la sua passione il motivo perché lui stesso si è avvicinato alle protesi idrauliche come lo fa utilizzando delle foto della non so la foto sua con il bambino nello zaino mentre vanno in giro in montagna quindi crea un link emozionale molto forte facendo emergere chiaramente che quello che vanno a fare loro ha a che fare con le storie concrete delle persone cioè non sono foto di stock non è un progetto business è un progetto sì un progetto business ma che parte dal desiderio di cambiare in meglio la vita in questo caso del proprio figlio anche qua ci sono riportati i pezzi scritti dalla stampa BBC News Sky News NBC News Global News e chi più ne ha più ne metta con tutti i link quindi ti dà un'idea anche della campagna stampa però allo stesso tempo non è una campagna super fighetta nel senso fatta al 100% delle prestazioni perché probabilmente essendo una persona non professionista una startup non professionista nel crowdfunding è fatta diciamo è abbastanza casareccia ti metto questo esempio nelle note dell'episodio perché ti dà l'idea cioè non ti dà un obiettivo irraggiungibile non riuscirò mai a fare questo devo rivolgermi a un'agenzia di comunicazione veramente una campagna su un oggetto medico che può essere creata anche da te da me da tuo cugino insomma è una cosa abbordabile e vedrai che comunque l'obiettivo sono 150.000 sterline ora ne ha raggiunto al momento l'11% quindi è un obiettivo interessante anche dal punto di vista del finanziamento non è che chiede 10 sterline in 3 mesi quindi è una ci sono già coinvolti 542 finanziatori quindi è qualcosa che già è riuscita a coinvolgere le persone un'ultima postilla ti do sul crowdfunding ecco la cosa bella è che per persone come posso essere io come sicuramente puoi essere tu che tendono a raccontare agli altri quello che fanno a condividere con loro la gioia l'entusiasmo per quello di cui si occupano è fondamentale avere aperta un'iniziativa di crowdfunding in un certo senso se non lo fai ti perdi qualcosa perché perché quando racconti agli altri che stai costruendo la protesi per bambini che quello che hai fatto per tuo figlio lo vuoi fare anche per altri o che hai aperto un progetto per il benessere psicologico delle mamme dopo il parto non lo so dico una cosa così gli racconti le persone si emozionano poi c'è come il desiderio te ne sarai accorto no rimane una specie di ma io che posso fare per aiutarti come posso essere coinvolto ecco avere un finanziamento aperto ti dà quella call to action da mettere lì nelle conversazioni quando vedi che le persone sono coinvolte in quello che che fai gli piace io per esempio stamattina ho parlato con un mio carissimo amico abbiamo preso un caffè insieme e mi ha detto che lui oggi va a fare lezione all'interno di un carcere è una cosa bellissima no lui professionista lo pagano un sacco di soldi di soldi per andare a fare lezioni in altri posti va completamente in maniera completamente gratuita all'interno di un carcere a insegnare a fare una lezione su quello di cui lui è specialista ecco il mio desiderio è stato subito come posso aiutarti gli ho detto possiamo venire e riprendere il corso facciamo qualche cosa il desiderio era proprio di essere coinvolto per poterlo aiutare a fare una cosa bella ecco aiutati a essere aiutato crea il modo per le persone di essere associate a questa tua iniziativa sicuramente nobile di interesse per la comunità scientifica o di interesse per i pazienti per riuscire a rendere integrato integrate le operazioni di ricerca quelle di comunicazione e quelle di finanziamento economico siamo arrivati alla fine della nostra puntata grazie mille per aver fatto questa domanda e ragazzi non vi fate scrupolo di fare tutte le vostre domande per quanto potrebbero sembrare da principianti qua siamo qua nessuno è esperto ok siamo tutti appassionati ricercatori di come il digital può cambiare in meglio la mia vita il mio business e la mia attività professionale e quindi grazie mille per questa domanda grazie anche a tutti i finanziatori coloro che coinvolti in strategia digitale ne sono la spina dorsale chi sono sono ascoltatori come te che hanno deciso un bel giorno di andare su youmediaweb.com slash finanzia e di dire guarda da oggi metto 5 dollari al mese per sostenere questo podcast per essere coinvolto per essere un produttore per andarmi a vantare al bar con gli amici che io sono il finanziatore di un podcast del primo podcast italiano sul mondo digital sulla crescita del business della crescita delle attività professionali attraverso il mondo digitale allora grazie mille prima di tutto i miei compagni di Mastermind Fabrizio Guidi Marzia Tomassin Francesca Traverso Paolo Pugni Daniele Besana Odra Bertolone e poi a Roberto Pagliarini Roberta Andreoni Beatrice Biasuzzi Nicolo Ravanelli Federico Izzi Davide Brenna Enrico Girotti Vittorio Neri Andrea Della Via Alessio Casarolli Fulvio Giulita Agata Amato Franco Nicosia Jacopo Livia Olio Poldo Antonino Cotroneo Paolo Gollo Massimiliano Berto Rosario Rizzo Stefano 2.0 Erika Vagliengo Silvia Zeta Mariano Lampis Gianluca Gorlani Mauro Arizzo Lorenzo Mari Rodolfo Monacelli Max Saggia Pilloli Tecnologia.it Marco Bazzo e Daniele Risi e poi tutti gli altri finanziatori che anche con un solo dollaro al mese sono passati dall'altra parte da ascoltatori a produttori sono entrati nel nostro team finanziate anche voi strategia digitale e non dimenticatevi di lasciare una bella recensione su iTunes per oggi è tutto quindi grazie anche a Sara Viltrico autrice del programma al nostro fonico Costanza Mineo e a Radiospeaker.it curatore del nostro sound design grazie mille e alla prossima strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie mille